La UIL, l'Unione Italiana del Lavoro, è un'organizzazione sindacale no profit di Cremona che da ormai diverso tempo sta lottando per i diritti dei lavoratori sanitari che operano nel pubblico impiego. Le richieste sono diverse, tra queste l'aumento degli stipendi, in quanto ad oggi i compensi, contando le ore straordinarie lavorate anche a causa dalla carenza di personale all'interno delle strutture pubbliche, sono troppo bassi per consentire una vita dignitosa agli operatori del settore pubblico. Il problema dei rinnovi contrattuali, oggi ancora di più rispetto al passato, è un problema di importanza primaria, perché è un tema di questi giorni, abbiamo l'inflazione all'8%, molte dei datori di lavoro si lamentano che si ha difficoltà a mantenere aperte le aziende, tutte le mentele corrette e giuste. Ma noi abbiamo una visione anche rispetto al lavoratore che lavora nelle aziende, perché lo stesso aumento dei costi per i generi alimentari, per la vita, per l'elettricità, per il riscaldamento, ce l'ha anche il lavoratore, che essendo un lavoratore dipendente ha degli stipendi legati al contratto che ha. Se non procediamo al rinnovo dei contratti, quindi a dare delle risorse in più ai lavoratori, noi rischiamo nel breve periodo, entro l'anno 2022, di avere una nuova fascia di popolazione che passa a livelli di povertà, di non potersi permettere né le cure sanitarie, né il riscaldamento in casa e nemmeno la luce in casa. Ma quello degli aumenti degli stipendi è solo una delle richieste. Infatti per venerdì 25 marzo, dalle 10 alle 12, davanti alla prefettura di Cremona, è previsto un presidio e protesta per richiedere assunzioni in tempi rapidi, adeguamenti dell'indenità, no al precariato, no agli organici insufficienti e no alle esternalizzazioni.